In merito ad alcune informazioni che sono uscite riguardo le mie dichiarazioni in merito ai giornalisti, già il fatto che sto parlando con questa gentilissima giornalista, che sono sempre appostate qui davanti la porta, dimostra che quella frase è stata colta in un momento un po' particolare, perché diciamolo, non era un'intervista alla radio, come qualcuno l'ha voluta far passare, ma due ragazzi universitari mi hanno fermato alle 23, mentre tornavo dopo una giornata intensa a piedi, perché solitamente ci muoviamo a piedi qui, avevo fatto 20 minuti in strada con la mia borsa piena di roba al tracollo, mi hanno fermato, crimi, 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 facciamo due domande, prima di fare le domande mi hanno chiesto, appunto, io ho chiesto, ma siete giornalisti, no, no, per carità, ho detto no, e lì mi è scappata quella frase, però stiamo parlando di una situazione assolutamente fuori da ogni livello istituzionale. Ma la frase, anche se cattiva dal punto di vista, e mi scuso per l'utilizzo di parole forse eccessivamente forti, conferma però una qualcosa che è importante, oggi la notizia è la mia frase, cioè il fatto che la notizia sia che io abbia detto quella frase, una delle notizie più importanti, e io mi trovo a dover giustificare, smentire, e ribalzo della rete, ribalzo dei media, io che ho detto quella frase, già dà il senso di quella frase, e quindi conferma che la ricerca del gossip, qua dentro, e mi riferisco ai giornalisti che stanno qua dentro, mi dispiace, è veramente eccessiva, è veramente eccessiva, ci seguito ovunque, andiamo al bar, andiamo in ascensore, in bagno, li troviamo ovunque con mille domande, quando non ci siamo mai risparmiati ad rispondere, e credo che dal punto di vista della comunicazione con i giornalisti, siamo quelli che abbiamo dato di più, e io sono uno di quelli che ho dato di più, e nessuno mi può smentire in questo, perché le informazioni ve le abbiamo sempre date, ogni volta che avevamo da dare informazioni, non ci siamo mai negati, quindi, mi scuso per l'utilizzo delle parole eccessive, sicuramente, però confermo che qui dentro, purtroppo, la ricerca del gossip, in particolare sul Movimento 5 Stelle, è eccessiva, è veramente eccessiva, io ho visto servizi su chi mangia dove, su chi fa cosa, ma niente su temi.